Allora ragazzi, questa è una partita importante, fondamentale, da giocare col massimo dell'attenzione, col massimo della volontà, ok? Quindi andiamo in campo, decisi a vincere. Noi diciamo basta alla violenza contro le donne. Nella vita, come nello sport, la cosa più importante è il rispetto. Non esistono scuse per la violenza. Anche alla violenza psicologica lascia i libidi. Una donna su tre è vittima di violenza. Spesso a fare questa violenza sono i partner e i compagni che dovrebbero essere coloro che le proteggono e le fanno stare al sicuro. Non è omissibile tutto questo. Vincere insieme questa partita. Chi usa la violenza sulle donne è sempre un perdente. Questo non è amore, basta.